Pochi istanti al via dalla quinta corsa, una prova per cavalli anziani a reclamare. Sono in otto dietro le ali della macchina, uno Bacco Baccio, Roberto Vecchione, due Barni, Lenny, Marco Stefani, tre Sbirulino, Grado, Roberto Ruvolo, quattro Best V, Carmine Piscuoglio, cinque Zig Zag, OP Antonio Di Nardo, sei Zinial, Luca Farolfi, in seconda fila sette Victor Leo Sandro Miraglia, otto Bono Jet, Salvatore, Cintura Junior. Favorito il numero uno di Bacco Baccio, Roberto Vecchione, in Saki. Autostar che inizia a prendere velocità, con cautela Zinial, prende un po' lanciata Best V, e la macchina stacca, con il tentativo da parte di Zig Zag OP di andare davanti, ma sbaglia, e così rimane facile Bacco Baccio nei confronti di Barni e Lenny. Numero 5, Zig Zag OP, squalificato. Terzo di dentro è Victor Leo, avanti a Zinial, alla retroguardia Best V. Si completano i primi 200 metri in 14,7, con all'avanguardia Bacco Baccio. In seconda posizione Barni e Lenny, allo scoperto Sbirulino Grad che precede Bono Jet, quindi Victor Leo allo steccato, Zinial e Best V. 32 per i primi 400 metri di corsa, con il figlio di leggendario che guida. A ritmo tutto sommato buono, all'esterno Sbirulino Grad inizia ad avvicinarsi alla testa, e ne vengono fuori 600 metri in 46. Bacco Baccio al comando e Sbirulino Grad di fuori. Poi Barni e Lenny con accanto Bono Jet, Victor Leo con a destra Best V. Rimane in ultima posizione Zinial, il giro se ne va in un minuto e otto decimi, con Bacco Baccio che controlla Sbirulino Grad che prova ad attaccare all'esterno. Sollecitato ora per cercare di andare sul leader Bacco Baccio, il quale passa il chilometro spalle indietro in 1.15.9. Ora però Sbirulino Grad passa con maggior decisione all'attacco, appariglia completamente Bacco Baccio e prova di insistere a 450 dalla conclusione. Si prepara Bono Jet, la retta opposta di tribuna è passata in 14.8. Lo scatto di Bono Jet in terza ruota che va su Sbirulino Grad e cerca di andare a prendere anche Bacco Baccio. Bono Jet è inseguito da Best V, cerca di liberarsi anche Barney Lenny. La piegata conclusiva con Sbirulino Grad che passa con allargo Bono Jet, Bono Jet che è passato nei confronti di Sbirulino Grad, a centropista prova di intervenire Best V, Bono Jet in vantaggio, Best V che prova ad arrivare, Bono si difende, Best V che attacca i due testa a testa sul palo, Bono Jet che si salva da Best V al terzo posto ancora Sbirulino Grad. 32 a chiudere, Bono Jet salvo cintura che... Guida alla perfezione dalla pariglia, Natale cintura al training, colore della scuderia Crazy Doctors, il successo di Bono Jet nel finale. Lo riapprezziamo nelle immagini, tenere botta al finish, ottimo ma tardivo da parte di Best V che è buon secondo. Al terzo posto ancora Sbirulino Grad dopo durissimo percorso esterno. Grazie. 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 Grazie.